La puntata finisce qui, ma in attesa della prossima vi invito a seguirci su newsauto.it, il portale per conoscere tutte le novità del mondo dell'auto. Inoltre per rivedere tutti i nostri video potete andare sul sito newsauto.tv oppure cercarci su youtube sempre con la parola newsauto. E allora vi ringrazio per averci seguito, ci vediamo come sempre qui, non mancate!